... è quello che entra e quello che entra su un giocatore che ha fatto ricezione al campo si gioca con la battuta che viene accennata da una parte all'altra però il giocatore rimane uguale dentro cioè se sulla prima palla da ricezione mettiamo la palla per terra, la palla giù tutto il resto vale più uno tutto il resto vale più uno ok ok non è che mi sei battuta non è che mi sei battuta vai è uguale, una volta che devi iniziare a battuta e poi devi iniziare vai 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 andiamo vai è gioco normale è gioco normale vai Vai a cuore, vai a cuore, neanche! Stia! Non basta il fuori alla luce, non c'è la tua cuore! Non c'è la tua cuore! Grazie! Si corta, si corta! 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 Si corta! Si corta! Si corta, si corta! Si corta, si corta!